Un minuto, perché all'omarca appena nasce già preparato le case, cioè noi ci abbiamo fatto un coltanto, visto che nasce e già preparato le case, nasce, va a scuola, ci va a casa, poi partiamo l'età, ci va a casa, poi si fa finanziare, che lo ha all'omarca, e poi si sposano, e ci va a casa, poi si impolpetano, e fanno un sacco di case. Però vedi, la filosofia è un babbaluce, della lumaca, è come l'uomo, nasce, cresce, si accoppia, muore, si produce e muore, però la differenza dell'uomo, qua scatta la filosofia è un babbaluce, della lumaca, perché anche la morta, la lumaca, se la fa succare.